Una volta fatta la diagnosi di una calcolosi renale, del grado di sofferenza renale e in relazione a quella che è anche la sintomatologia espressa dal paziente, a parte il primo approccio che è quello di trattamento del dolore, è necessario risolvere il problema della presenza del calcolo. Abitualmente se siamo di fronte a calcoli di piccole dimensioni, e questo ce lo dice l'ecografia, ma ancora meglio ce lo dice la TAC, e si ha la possibilità di avere una previsione di un'espulsione spontanea, questo succede per calcoli fino a circa 7 mm, si fa una terapia medica, quindi si segue il paziente per un periodo più o meno lungo, intendendo qualche settimana, con una terapia espulsiva che utilizza e si avvale sia dei farmaci menzionati a proposito del dolore, quindi dei FANS e dei morfinoderivati se c'è necessità, e inoltre ci sono dei farmaci che si utilizzano proprio per favorire l'espulsione del calcolo. Di questi, anche se ultimamente non c'è molta concordanza, il farmaco più utilizzato è l'alfalitico. Sono dei farmaci che allargano il collo vescicale e che rilasciano anche il distretto urinario inferiore, quindi il mea tureterale, favorendo l'eliminazione del calcolo stesso. Grazie. Grazie.